Ogni giorno muoiono 463 processi penali in Italia, ben 169.000 si prescrivono ogni anno a partire dal 2001. Per una condanna definitiva bisogna attendere almeno un lustro. Tempi assurdi per un paese civile che vuole garantire la giustizia a tutti. Di chi è la colpa? La risposta è contenuta in un piccolo libretto appena pubblicato dalla CEDAM. La giustizia penale in Italia, un processo da sbloccare, la lezione americana. A firma di due autorevoli magistrati, Antonello Mura e Antonio Patrono. Nel 1989 fu presentato il nuovo codice di procedura penale. Fu presentato come il processo accusatorio all'americana. Dopo circa 20 anni quel processo viene considerato come la cronaca di un fallimento annunciato. Perché? Certo, letta con l'esperienza che oggi abbiamo, non c'è stata probabilmente un'elaborazione adeguata a cogliere quelle che erano le implicazioni di ciò che si andava introducendo nella nostra realtà. Implicazioni che soprattutto sono state portate da una differenza di alcuni fondamenti culturali, sociali della realtà americana che nel momento di quello che è stato chiamato un trapianto hanno provocato ciò che pure è stato definito una forma di rigetto. La tesi dei due magistrati è dunque semplice. Il nuovo codice di procedura penale, voluto dal ministro Giuliano Vassali nel 1989, fu come il trapianto di un corpo estraneo nella struttura giuridica millenaria del nostro paese. I frutti del rigetto sono prescrizioni, lentezze, ritardi, errori in serie, conseguenze di una struttura processuale incapace di rispondere alle attese dei cittadini per come è stata pensata. Una tesi controcorrente rispetto alle grida da prefica di chi lamenta sempre pochi fondi e mezzi. Non si può ragionare in termini di politica spicciola su problemi che toccano il modo d'essere di una società e che poi toccano il singolo cittadino veramente nei suoi diritti fondamentali. Che questi sia l'imputato, che sia la vittima. In che modo porre mano al processo penale per cercare di riparare al sistema bloccato in cui ci siamo trovati in questi anni? Sul piano concreto io direi che poi si può intervenire anche direttamente nella dimensione processuale. Per esempio gli appelli che oggi affidano ad una corte d'appello che può leggere soltanto i verbali del primo grado e quindi i verbali per esempio delle testimonianze, la decisione su ciò che invece è stato valutato dal tribunale come primo giudice che ha sentito direttamente i testimoni. Questa è una contraddizione. Non si parli poi del ricorso per Cassazione che oggi vede dei numeri che nel panorama internazionale sono inverosimili. Credo soltanto il Brasile in tutto il mondo abbia numeri raffrontabili con quelli italiani. Oggi abbiamo in Cassazione civile e penale complessivamente qualcosa come 80 mila ricorsi.